Sì, io sono il primo maresciolo Ragusa Filippo del 32esimo leggimento Genio. Insieme ad alcuni rappresentanti, comunque ad alcuni assetti anche del secondo reggimento Genio Pontieri di Piacenza, siamo qua ad Albenga per ripulire il rio Carenda ed effettuare anche alcuni interventi in altre zone tipo la provincia delle 6 dove c'è stata una frana. Siamo chiamati ad assistere durante l'alluvione, quindi è anche il nostro compito intervenire. Su tutto il territorio della Liguria, nella provincia di Genova, tra Genova e Savona siamo rimasti in circa 50. Fino a qualche giorno fa ancora in piena emergenza eravamo circa 150 di diversi reparti e attualmente che l'emergenza in parte è rientrata siamo rimasti in una cinquantina. Oggi siamo qui sul comune di Albenga in 12, abbiamo delle macchine operatrici e dei ribaltabili, diversi ribaltabili, un escavatore e delle pare caricatrici apposta per completare questo lavoro. In teoria siamo sull'ordine di 3-4 giorni per completare questo lavoro qua e più o meno contemporaneamente lavoreremo anche sulla frana della provincia delle 6. Ma è la strada che porta a Villanova, che collega Albenga con Villanova. Grazie a tutti.